Ciao a tutti ragazzi, benvenuti! Video! Oggi che parte era? Ehm, mi sembra la terza. Vabbè, aspetta... Sì, era la terza parte! Scusate, io mi dimentico di vedere le cose! E allora... Benvenuti in questa vita in città! Buona visione! Ehm, terza parte, vita in città! E tu non la dici, buona visione, vita in città? Eh, ho detto già qua che... No! Ho detto già in un'altra maniera. Vabbè, vabbè, buona visione. Dove vai? Aspetta che così si vede meglio. Ecco, così si... Ecco, vieni vicino a me e facciamo vedere che così vediamo meglio. Sì, così si vede proprio meglio. Meglio, meglio, meglio. Oggi dove è morte? Beh, dobbiamo vedere lei dove va. Comunque ragazzi, buona visione! Ma perché siete sempre qua? Dai! Giriamo la fotocamera! Ah, amica! Ma quando lei inizia il video, vede subito il papi a correre. Ma che vuole andare... Cioè, mentre lei vuole far vedere che lei va incontrare la telecamera. Vuole far vedere... Il papi vuole far vedere... Il papi vuole far vedere che lei si mette con la faccia sulla televisione. Cioè, vuole fare così, vuole fare. Cioè... Cioè, vuole fare così. Poi non si sa più dire, è l'io star. Lio star? Ma prima non mi volevi dire un qualcosa. Dove vai? Ti vedo bloccare. Ti stavo seguendo. Ma perché io ti vedo bloccare? Fermati! No, io le vorrei così tante il cavallo. Chissà, forse quando farei i cuccioli me lo regalo un cavallo a me. Speriamo di sì. Perché stai l'impalata? Ma ti ho visto pensare a qualcosa? Stavo pensando, io penso. Sono sognatrice. Sei sognatrice di quando eri bambino. E basta, però perché vuoi essere ancora bambino? Perché nella vita... Ma basta, ma basta che... Almeno ti devi girare perché non è possibile. Dai, muoviti un po', non puoi stare sempre ferma. Che bello. Dai, vieni ad accarezzarlo con me, il cane. Puoi accarezzarlo con me? Sì. Oh, che bello. Bello. Hai visto che... Che quando tu entri noi siamo sempre insieme. Ma poi succede una cosa. Hai visto che noi dobbiamo sbloccare la carrozza? Hai visto? C'è da sbloccare la carrozza. Ma per... Ma tu, quando farei i diamanti, li potrai comprare quella carrozza là che mi piaceva? Quella là tutta rosa dentro? Sì, però io... Lo sa, la vuoi pure su. Ma tanto, se tu me la compri a me, io te la compro pure a te. E credo che io te la posso comprare pure il più veloce. Io nel frattempo mi sto facendo buono in giro a cavallo. Ti piace? Ma ti piacerebbe vederlo volare? Certo. Ma dove stai? Potresti venire pure a cinque anni volare. Sì? Ma... Ho paura. Ho paura che non mi troverai, però. Ho paura, ho paura di te. Scusa, dove stai? E dove stai? Aiuto. Dove? Ehi! Dai, vieni con me. Aspetta, che deve fare bella figura, vuole fare. Oh, ma di chi è questo cavallo che si spunta sempre? Beh, chi sa è la mia piccola cavalla quando farà i cuccioli? Secondo te è la mia cavalla quando farà i cuccioli? Ti ricordi quella volta noi eravamo là dove tu stavi in punizione? E poi cos'è successo? È successo che siamo spuntate qua, ti ricordi? Sì, mi ricordo. Beh, ma io non lo so perché. Secondo te? Sta ancora a pensare? Ma si mette a pensare sempre questa! Aspetta! Aspetta! Oh, che bello! Che bello! Che bello! Che bello quel castello! 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 Aiuto! Chi c'è? passiamoci ma perché non vuoi mai salire a cavallo con me tanto io ti invito se vuoi guarda la tele è libera puoi salire se vieni ma se vuoi puoi salire è solo che tu non ti provi guarda così si sale visto? ho capito non lo vuoi fare vabbè non fa niente adesso lo diamo nella stalla come si mette si mette dai vieni sulla nave con me e ti piacciono questi cavalli che sono voluti stare qua? beh alcuni hanno la sella e quindi tu potresti cavalcarli alcuni perché guarda questo qua è la sella questo è la sella lo sai che ci stanno pure alcuni gemelli? dai vieni ti faccio salire se vuoi vieni 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 dai se vuoi ti faccio salire su quelli la che hanno la sella dai sali su questo non aver paura non aver paura non ti guardano ma di chi è questo cavallo? come sta la sella? non potremmo guardare lo vedo carino beh può essere pericoloso salire su questi cavalli aiuto aiuto non lo voglio fare niente aiuto aiuto dove vai? eh niente ma perché io ti vedo bloccare? sarà la connessione beh perché non sali su questo qua? tanto i gemelli sono tanto questi qua sono molto gentili no no sì sono gentili io giuro io voglio che il cavallo deve essere mio solo per montarlo e me la devo crescere il cavallo e ma sei addestrato? e come fai ad avere paura? oh guarda dove sono salita oh è bellissimo aspetta che ora mi faccio la scritta guarda devi salire prima su qua e poi salita e poi se ci salgo da dietro come? vuoh ma che salto che fai? ma che salto che fai? lo so allora come fai? aspetta no no aspetta aspetta dai no no ecco ecco stai ballando pure tu e adesso guarda che mi faccio io dai adesso puoi sbloccarti dai no devi camminare butta ah però è morbido ok adesso che ci siamo messi i vicini possiamo finirlo ragazzi spero che la terza parte vi sia piaciuta e ci vediamo nel prossimo video ciao ragazzi nella quinta parte e ciao nella quarta parte quarta parte cioè scusatemi scusatemi tanto manda il bacio quarta manda il bacio pure tu ciao ragazzi ciao